benvenuti al quarto video tutorial dedicato a microsoft flight simulator stiamo vedendo come funziona il gioco da un punto di vista strettamente tecnico non stiamo parlando assolutamente del volo almeno per il momento ricordo che per giocare a questo gioco in maniera realistica bisogna non solo sapere come funziona il gioco da un punto di vista tecnico ma anche studiare 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 le regole del volo che sono molto simili a quelle conosciute apprese e applicate dai piloti reali nella realtà nella scorsa lezione abbiamo visto i controlli e quindi come si configura un joystick per esempio per giocare a flight simulator oggi vediamo un'altra sezione delle opzioni l'ultima in realtà che vedremo poi passeremo ai comandi di un vero aereo che è la sezione dedicata appunto all'assistenza alle opzioni di assistenza come sempre menu opzioni e questa volta andiamo sul box centrale quindi opzioni di assistenza in realtà devo essere onesto con voi per adesso c'è poco da dire in questa sezione cosa sono queste opzioni sono le opzioni di realismo in altre parole noi possiamo informare il software quindi il simulatore di che livello di assistenza e di realismo vogliamo avere quindi se siamo dei principianti magari potremmo volere essere guidati passo passo man mano che facciamo le cose per prendere dimestichezza con il gioco se siamo invece già esperti e super addestrati magari i suggerimenti ci sono di noia e quindi potremmo volerli disabilitare la buona notizia è che anche qui ci sono dei preset quindi le varie opzioni che sono facile media e difficile io per consiglio all'inizio per i primi per le prime volte che giocate a fly simulator di impostare tutto su facile se impostate tutto su difficile magari il gioco si ferma e dice che avete sbagliato qualcosa l'aereo magari si rompe in volo e voi dite perché ecco se non avete assolutamente conoscenza di come funziona un aereo potreste rimanerci anche molto male perché se non sappiamo che cosa abbiamo sbagliato ovviamente è difficile poi correggere quindi all'inizio impostiamo tutto su facile man mano che poi andremo avanti con il gioco diventeremo più pratici del volo potremo poi andare ad impostare un livello di realismo più elevato solo rapidamente diamo un'occhiata a quelle che sono queste opzioni anche se ripeto non serve conoscerle tutte abbiamo la possibilità di chiaramente impostare questo dei preset facile medio e difficile ma possiamo anche scegliere di poi personalizzare lì che cosa sono queste opzioni per esempio possiamo impostare la miscela automatica quando un aereo vola specie gli aerei ultraleggeri o anche i cesna bisogna gestire la miscela del motore quando si vola a basse quote la miscela deve essere ricca ma al mano che si sale di quota la miscela deve essere diciamo resa meno ricca sto utilizzando termini un po' approssimativi mi torneranno gli esperti ovviamente però il senso qual è che le prime volte magari potremmo non volerci preoccupare troppo della miscela e in questo caso abilitando l'opzione miscela automatica lasceremo fare tutto al simulatore ok non è una cosa realistica ripeto però per iniziare è importante se non si sa bene che cosa si sta facendo se siete già pratici ovviamente volete essere voi a gestire l'arricchimento della miscela impostate questa voce su off stessa cosa sul carburante illimitato ecco voi sapete bene che un aereo ha una quantità di carburante diciamo stabilita non è reale un aereo che vola con carburante illimitato però magari per le prime volte non volete preoccuparvi di caricare il carburante a bordo ecco potreste volere avere il carburante illimitato vale sempre il solito discorso vale a dire c'è la descrizione a destra di ogni singolo comando quindi nel caso del della deriva del giroscopio se ci passiamo sopra con il mouse leggiamo seleziona se desideri che la deriva del giroscopio venga attivata durante il volo se questa opzione è attivata in alcuni aeromobili il giroscopio dovrà essere ricaribrato durante il volo a no ok quindi deve stare su off se volete avere la vita più semplice vedremo meglio cosa è il giroscopio poi più avanti quindi ricapitolando se siete le prime armi impostate tutto su facile se siete già bravi alzate e andate su difficile ci sono alcuni casi in cui anche una persona molto pratica potrebbe voler personalizzare alcune di queste impostazioni e in questo caso chiaramente la dicitura cambia e diventa personalizzata quando avete finito con la vostra personalizzazione cliccate come sempre su applica e salva e le modifiche verranno applicate e salvate come sempre se avete fatto una modifica e andate su indietro un avviso vi informa che avete fatto qualche modifica e vi chiede se volete salvare oppure in questo caso scartare come sto per fare io bene basta nel prossimo tutorial nel quinto video tutorial lasciamo da parte le opzioni che sono una cosa noiosissima ma che è importante conoscere e finalmente vedremo come si configura un volo quindi come si sceglie l'aeroporto di partenza come si sceglie l'aeroporto di arrivo come si sceglie l'aereo su cui vogliamo volare e altre piccole cosine che un principiante magari deve conoscere per mettere mano e fare il suo primo volo con fly simulator finalmente lasciamo da parte le opzioni tiriamo fuori l'aereo dall'hangar e proviamo a fare qualcosina con fly simulator senza però ripeto e lo ribadisco perché so già che tanti me lo diranno entrare troppo su quelle che sono le regole del volo ok quindi io eviterò per questi primi video di parlare con la torre di controllo se non quando andremo a parlare delle lati della torre di controllo stessa quindi della tsi eviterò di rispettare molte regole che invece chi vola deve seguire quindi per esempio le taxi stabilite date dalla torre di controllo piuttosto che le procedure per poter decollare no ci sono delle mappe e disponibili sul sito dell'enav che ci indicano quali sono le procedure che dobbiamo seguire sia quando decolliamo sia quando atterriamo ci sono delle regole insomma ecco noi di tutto questo per il momento non ce ne preoccupiamo e andiamo avanti perché vogliamo volare poi magari più avanti qualche lezioncina la dedicheremo anche a queste famose procedure ma sempre con l'avviso che se volete approfondire le regole del volo vi rimando a canali qui su youtube che invece trattano nel dettaglio questo quindi come funziona da un punto di vista più realistico ecco un volo basta così se vi va registrate via questo canale youtube mi fa molto piacere è un click per voi e per me invece è molto importante se vi va accendete anche le notifiche e se avete voglia e vi piace il mondo dell'editing video non perdete i tutorial su adobe premiere pro adobe after effect illustrator photoshop e tutta un'altra serie di tutorial che vengono fatti qui su questo canale youtube grazie per il supporto grazie ancora al prossimo video tutorial ciao